Mario Draghi, Giorgio Meloni, neo-premier, premier uscente, la campanella, sorrisi, passaggio e suona. Non suona più, dice Giorgio Meloni. Quanto la devo far suonare? Sorri dentro. Mano ferma, tra i numeri che l'agitazione era ancora più palpabile perché è un'emozione trattenuta al momento del giuramento. Si sente? Si, si sente, il Presidente si sente, glielo confermiamo da qua. Poggia la campanella sul vassoio. Ultima foto, anche qua, esattamente come ieri, stretta di mano a doppia mano, però stavolta è lei che ha la doppia mano su quelle di Mario Draghi. Sottosegretari, uscente ed entrante, tanto vanno è quello che verrà confermato adesso nel primo consiglio dei ministri. Photo opportunity, passaggio di consegne avvenuto, due epoche che si vengono a incrociare. Ringraziamento di Mario Draghi. Saluto. Saluto a tutti, rapido, molto informale. E adesso Mario Draghi lascia Palazzo Chigi.